Ciao a tutti da TheFaceGame, qui Tibu che tossisce e c'è Tello che vi parla e questa è una nuova mappa di Minecraft. Ma che cazzo è Tello? Hanno costruito un'isola, guarda che bella. No ragazzi, dopo il galeone, ci siamo modernizzati. La nave da crociera ragazzi, che andrà a sbattere su uno scoglio. La nave da crociera, il titanico. Io voglio un iceberg, non voglio uno scoglio, voglio un iceberg, è più bello. Non voglio una nave da crociera, voglio l'asiago. Ma che strozzato. Allora ragazzi, noi ci siamo svegliati qua così. Ciao Tibu e Taylor per arrivare nella stanza di Tibu. Stai buono. Segui la linea rossa. Questa è la nav di TFG. Ma questo mi sa che non ho scherzato con i cannoni. Per fortuna non guida. Schettino, ma perri, le scialuppe sono ai lati. Per fortuna. Esplorate la nave è grossa, i motori e le stanze. La nave? È grossa. È grossa. I motori e le stanze. I motori e le stanze. Bella, buon viaggio. Bella, ragazzi. Non si può leggere. Giratevi e guardate lo schermo. Girati. Dov'è lo schermo? No, non troppo. Non c'è il gioco. Si è girato veramente. La testa mi fa male, non ho più voglia di scrivere. Bene. Boh, meno male va. Allora, andiamo a scherzo qua. Andiamo a fare un bagnetto. È vero? Profondita? Profondità abbastanza. Ah, per Arador. Perché Arador è alto. Boh. Non so cosa intende. Comunque, seguiamo l'arena rossa, come dicevo, per andare alla stanza di Tibu. La stanza mia stanza. Mi hanno fatto la stanza. Pensate che figata. Io ho niente. Vai a un piano sotto e segui la redstone, arrivi da Tibu. L'arrivo da Tibu. Vediamo. Ma mi trovo nel gioco. Sotto, non sopra. Mi trovo nel gioco, hai capito? Infatti, cosa ci fai qua? Non c'è l'instanza. Poi da che seguo la regola rossa. La regola rossa. Stanza Tibu's Room. Stanza di Tibu. Rooms. Perché c'è un... Ma non... Ma perché devi rompere sempre? Comunque anche questa potete trovare nel sito, scaricarla, quella originale che hanno fatto questi ragazzi incredibili. Tibu non rompere il cazzo. Tibu non dorme. Tibu è libero e Dobby libero. Vabbè. E il letto costa... No, non ci vado. 23 euro imu. Ok, hai capito? Non dormo per quello, perché se vado a dormire... Vabbè. Beh, questa è una massima che penso che... La cacca a puzza. Per andare nella tua stanza, fermati sui pistoni e vedrai. Mi fatti spiaccicare dai pistoni. Scusa, ma perché devo morire prima di entrare in stanza? Che giuro sto, ti sta bene? Guarda che roba. Che figata, cazzo. Caletto gigante. Ho un letto a doppia piazza, eh. E qui c'è tutta la mensa per mettere il tuo minchiato. Dove lo piazzo qua dentro, eh? Vabbè ragazzi, usciamo sul ponte. E dove vai? Adesso non ne ho fatto nessuna parte. Ti butti? Ti butti, ah! Adesso ragazzi vi faccio vedere quanto tempo ci hanno perso questi qui a fare la nave. Perché voi pensate che c'è solo quel piano lì? Tutti i piani hanno due milioni di stanze, tutte fatte uguali. Tutte uguali, no. Mi hanno detto che ci hanno messo un mese in quattro o cinque e ognuno si occupava del piano. Quanti belli scavatori. Guarda quanti merdi scavatori. Non sono scavatori questi, mi sa. Bon costruttori. Salutiamo Capo Bastone che sa questa mappa si diverte, ragazzi, che la distruggerebbe tutta. Beh, io no. No, vabbè, no. Io metterai del TRT in ogni buon stanza. Per far vedere che le stanze sono tutte uguali. Jim. Guy. Ah, Jim. Jim, 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 Jim. Oh, c'è la palestra qui, ragazzi. Questa è la leg press. Yeah. Scusi, libera la macchina, sì. Sì, perché a noi è successa una roba un po' particolare in palestra. Esatto, sì. Dai, Tibo, raccontala tu. No, no. Tu la racconti meglio. Qui ci sono i pesi, niente. Ma perché sono sempre io che faccio danni, cazzo. Ma tu hai stato fatto la figura di merda in palestra, veramente. Ma la roba strana è successa che è arrivato un armadio, praticamente. Una roba a due piazze, come il mio letto. Cioè, è arrivato e appunto ci ha chiesto, scusate, è libero la macchina. Noi eravamo ancora bambini. Agili, agili. Che potevano essere praticamente un suo mignolo. Mi ha detto, sì, 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 prego. Siamo scappati dall'altra parte della palestra come se dovesse ammazzarci. In realtà non avrebbe fatto niente, però. No, figura. Quelli lì sono tutti sui muscoli, gli spacco la faccia. Guarda questo, guarda come ha fatto la haul di questa, guarda. Che si vede la stanza. L'asshole. Oddio, che figata. L'asshole. Guarda. Ma perché devi buttare? Ma tu sei un passeggero normale che ti... Rubate tutto. E portate a casa. Ma che cazzo. Non lo so, cioè... Guarda che figata, cazzo. Voglio esplorare. Ma vai a vedere sotto che era più bello, scusa. Teametro. Ma, ma sanno scrivere. Poi perché c'è una porta qui e una porta dentro? Ma scusami, ma ti rendi conto dopo tutte le ore che hanno perso a costruire qua? L'ultima roba che pensano... Qui c'è il teatro per vedere le nostre top ten. Guarda, ci metti lì. Ma sembra una chiesa, cavolo. Sembra una chiesa. Per fortuna che non lo è. Night club. Andiamo qua, uguale. Possiamo mettere il cd e c'è la tipa che balla. Sì, ma non sei tu fortunatamente. No, no. Wow! Andiamo avanti. Dai DJ, spingi quella merda. Qui si esce sul ponte. Ecco il ponte. Che figata, ragazzi. Che figata. È il ponte. Guarda in giù, scusa. Ti muovi come un disperato? Guarda in giù. Guarda le poppe. Non è... Le poppe. Le poppe. Non si dice così. Mary Poppe. Non si dice proprio poppe. Ah no, peccato. Ce n'è una. Pensavo che si dicesse così, scusate. Ma è cru o è poppa? Aspetta, aspetta. Guarda che bello il lampadario. Fai anche di stile. Sì. È enorme. Sì, guardate quanto è grande, strano da crocella. È enorme. C'è assurdo. Ah qui non c'è niente, qui è solo... No, si spacca qualcosa, scusa. Ma perché? Falla saltare. Ma no, ma dai. Ma è una figata sta nave. Ma un pezzetto di... Hai detto rompi tutto, c'è scritto? Ah no, ha scritto ruba tutto. Ruba tutto. Eh ma noi siamo dislessi e abbiamo letto male. Esatto. Perché loro scrivono male e noi capiamo male. Ah, guardate. Questo è il pino 5, non il piano. Ma secondo me l'hanno fatto apposta. Ma sì, dai. Dici? Ma sì, e vai su, piedi in giù. Dico proprio di sì. Senti, vai... Guarda, questo è un altro piano. Ma... Guarda che bello. Scialuppa, noschettino. Ah. 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 Adesso l'ho capito. Ma era la povera di pensieri, assolutamente. Scialuppa di salvataggio, noschettino. Grandissimi, cazzo. È giusto comunque. No, perfetto. Noschettino. E la stessa cosa c'è? Salvamerda. Adesso devo entrare. Adesso non c'è scialuppa, senso. Scialuppe. Cioè uno si deve salvare. Andate nella stessa salvamerda. No, no. Apri la porta. Va bene. È sempre che al contrario sono queste porte. Tu vai sempre a sbattere sugli stili. Vabbè, insomma. Vai sempre in centro e va a sbattere. Il pino 4 è adibito a scialuppe di salvataggio. Noschettino. Schettino non può entrare. Ma guarda che c'è un lavorone incredibile. Ah, qui siamo al piano 3, dove si vedeva da là. Sotto, giustamente. Negozio da froci. Beh, non so, mentiamoci. Devo entrare. È un'esperienza nuova. Ma chissà cosa c'è qui? Niente. Guarda, non voglio indagare. Negozio, senza froci. È un negozio lesbo, non c'è, scusa. Vai avanti. Vai avanti, magari c'è. XX porno chiamati. E guardate. Ma perché ci sei tu dappertutto? Io ho anche un sexy shop. Negozio XXX. Sì, però è che è tutta roba tua. Qui ci sono i negozi porno. Cinema, attenti all'ano. All'ano. Attenti all'alano. Ma tu cos'è, un cane? Niente, qua si vedono sempre le top ten di TVG. Eeeh, cos'è? The Face Game. Tibu Taylor, gli altri sono razzista. Rinegando la faccia un po'. Oh, guardate, ha due piani anche il cinema. Sì, il proiettore dove lo metti? Che figo, ma guarda che roba. Nel culo. Ma perché? Non è che devi usarlo come un pertugio, eh? Ragazzi, è pazzesca. C'è, hanno perso la vita da fare una cosa del genere. Io ci avrei perso la vita. Loro ci sono direttamente. Ora, se vi lascio esplorare a voi gli altri piani, andiamo direttamente giù. Andiamo direttamente giù. Adesso andiamo giù direttamente nei motori. Voglio dirti, Taylor, che la mia stanza l'hanno fatta, la tua no. Eh, lo so. Ragazzi, i motori, spazio libero per scoppare, ma non si può entrare. Perché? Rompe e entra. No, andiamo nella tua stanza, rinegando. C'è anche la tua stanza. Eeeh, veramente. Stanza di rinegare. Non posso entrare. Vedi che non si sono dimenticati. Sì, ma pitta. Quella la tua stanza, che bella che è. Non c'è un cazzo, ma è enorme. La puoi addibire di quello che vuoi. La riempio di tene. Ma scusa, fai un buco che entra l'acqua così annega te. Ecco. Ecco, così morirai. Come? Ho preso il possesso. Ho preso il possesso del computer. Esatto. E provate a immaginare cosa faccio. Dai, ma dai. Ma vaffanculo. Ma dai, chiudi, che sta imbarcando acqua. Sì, sì, vado a chiudere il buco. Ah, boh. Bravo. Ma, porca trottola. Ecco, bravo. Buona, buona, dai. Basta, basta. Basta, basta. Comunque voi la potete scaricare dal sito integra, non come le carica Taylor sul sito, ma... O come le faccio io. Esatto. Via, 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 via. Vi darò un'onda nova. Guarda che roba. Io l'ho fatto sento perché così possiamo uscire più. Ma non entra l'acqua. Comunque, se entra così lentamente l'acqua, praticamente tutti quanti... No, ma non entra. È fatta bene sta nave. È anti-affondamento. Esatto, è a doppio... Doppio scaf... L'ho fatto perché non l'avevo... Doppio... È a doppia stronzata, stai dicendo. No, come si dice? Scafo. Doppio scafo. No, non si dice così. Vabbè ragazzi, se il video non vi è piaciuto cliccate su vi piace. Continuate a iscrivervi al nostro canale. Splush. Splush. E se non sapete come scaricare la mappa o caricare le clip, andate sul sito. Ma guarda che bella che è. Guarda che bella che è. Adesso stupiamo il video e la faccio saltare. Stupenda, sì, perché non è esplorata tutta, ve la lasciamo esplorare voi. Vabbè ragazzi, ciao a tutti e al prossimo video. Ciao. Alla prossimo video. Alla prossimo video. Alla prossimo video.